Ciao a tutti, sono appena tornato dal primo giro test con la Specialized S-Works Crio SL e quella che vedete qui di fianco a me è una versione davvero speciale. E' stata voluta da Mike Senior, di fatti questa qui è la Founder Edition, che verrà prodotta solo in 250 esemplari in tutto il mondo. Sarà acquistabile solo online e diciamo ai fortunati possessori verrà fornita anche una placca d'oro firmata da Mike Senior stesso, un Founder Edition SL Kit, quindi ci sarà tutta una serie di accessori, di attenzioni da parte di Specialized molto particolari. Ma sicuramente la cosa più interessante, al di là dell'estetica, è il fatto che è estremamente curata, perché il peso di questa bicicletta qui scende dai 12,2 della versione S-Works a 11,8. La Founder Edition è proprio la punta di diamante della nuova gamma Crio, che beneficia di una serie di migliorie rispetto alla gamma Turbo Mountain Bike, come ad esempio il motore che è stato interamente sviluppato e soprattutto creato da Specialized, quindi non più con combrose. 1,95 kg, un fattore Q di 181 mm, la possibilità di montare una corona da 46 denti e soprattutto le prodigiose caratteristiche di erogazione della potenza che caratterizzano la gamma Turbo di Specialized da sempre. Un altro dettaglio interessante riguarda le due batterie. Anche qui c'è moltissimo del know-how di Specialized, perché innanzitutto la batteria è prodotta da Specialized, sviluppata, ingegnerizzata proprio da loro, qui nella sede europea della piattaforma Turbo. C'è un dettaglio che mi hanno fatto notare durante la presentazione che riguarda ad esempio i vari collegamenti che sono fatti in rame, ma non sono dei fili, sono dei circuiti stampati, ovvero sia un'accortezza che hanno deciso di avere per fare in modo che lo spazio disponibile per le celle fosse massimo, in modo che qui ci fossero quante più celle, quindi quanta più energia accumulabile possibile. Questa batteria qui è da 320 wattora, quindi una quantità di, come dire, una capacità che è comunque sufficiente per fare delle uscite anche piuttosto lunghe, soprattutto se abbinata a questa batteria qui, che pesa un chilo, ed ha esattamente la metà della capacità di questa batteria qui. Si può installare direttamente sul portaborraccia, sul tubo piantone, come potete vedere sulla bici qui di fianco a me. Ebbene, le caratteristiche della Founder Edition, come dire, possono magari attirare l'attenzione e il desiderio di moltissimi appassionati. Sul prezzo ancora non sappiamo dirvi, però vi invito a dare uno sguardo all'articolo che abbiamo pubblicato su bici-da-strada.it dove ci saranno tutte le informazioni relative ai prezzi. In questo momento, oggi, nel giorno in cui la piattaforma Crio viene presentata alla stampa mondiale, ai media mondiali, ancora non conosciamo i prezzi. Questa è, come detto, il top proprio, verrà prodotta in serie limitata e adesso passiamo invece alla versione S-Works, quella che io oggi stesso ho provato. Questa qui, a tutti gli effetti, è un modello pensato per le prestazioni. Non è una e-bike da strada per andare a passeggio. Specialized ha voluto coniugare le caratteristiche, diciamo, costruttive, sia a livello di geometria, sia a livello di qualità della fibra di carbonio, che caratterizzano la piattaforma Tarmac e la piattaforma Diverge. Ha creato un mix che riesce ad essere estremamente efficiente nella pedalata, grazie sicuramente alle caratteristiche del telaio che vi ho appena menzionato, alla fibra di carbonio FACT 11R, al fatto che abbiamo 12,2 kg come peso per la bicicletta. Quindi è una bicicletta pensata veramente per andare forte, non solo in salita, ma, se capita, l'occorrenza anche in pianura. La rapportatura 46-11 come rapporto più lungo consente di spingere con buona efficienza, buona efficacia, fino a 52-55 km orari. Le ruote sono le Roval CLX 50, quindi parliamo di ruote costruite per la velocità, per avere un'efficienza aerodinamica di grande livello. Manubrio. Il manubrio è il medesimo che troviamo sulla Diverge in versione S-Works e anche qui, sempre nella zona dell'attacco, vediamo il Future Shock 2.0. Il 2.0 ha la manopolina sull'attacco manubrio che consente di chiudere ed aprire il damping, ovvero la capacità di assorbire le sollecitazioni. Vediamo adesso alla trasmissione posteriore. Pacco Pignoni 11-42, cambio Shimano XTR, quindi con attuazione D2 elettromeccanica, e la rapportatura, sebbene possa far magari storcere il naso sulle prime, perché troviamo una trasmissione monocorona, di fatto, con corona da 46 denti all'anteriore, in realtà, per quella che è stata la mia prima iniziale impressione di utilizzo, non è poi così fuori luogo. Risulta piuttosto facile da cambiare grazie al sistema D2, ma allo stesso tempo la scelta dei rapporti che si può avere è comunque adeguata, in combinazione con il motore elettrico, quindi con la spinta del motore elettrico, è comunque adeguata ad un utilizzo road anche piuttosto orientato alle prestazioni. Questa, ovviamente, è una bicicletta di alto livello, 12,2 kg e davvero, grandi prestazioni. Il modello di ingresso della gamma CRIO SL è la versione Expert che, rispetto al top, diciamo, alla S-Works, prevede delle differenze di allestimento. La prima, più evidente, innanzitutto, è che non c'è la batteria ausiliaria, la range extender sul tubo piantone. Ci sono, ovviamente, differenze anche sull'allestimento. Ad esempio, il manubrio Hover è allo stesso profilo, nella stessa forma di quello che troviamo sulla S-Works, salvo che qui è in lega leggera, contrariamente al modello S-Works che è in fibra di carbonio. Stesso discorso lo vediamo anche sulla pedivella Praxis che qui è in lega leggera anziché essere in fibra di carbonio. Regisella, qui anche abbiamo lo stesso, il medesimo modello della S-Works in fibra di carbonio. Alte differenze le troviamo sulla trasmissione che è pur sempre di due, ma qui abbiamo il Deore X-T con trasmissione con pacco pignoni 11-42, sempre 11 velocità e monocorona, corona da 46 denti. Passiamo alle ruote. Le ruote sono sempre Roval in fibra di carbonio C-38, ovvero sia un modello di ruota che troviamo anche sulla gamma Diverge. Quindi, come detto per gli altri modelli, c'è una commistione di caratteristiche fra la gamma Tarmac e la gamma Diverge. Questa qui, quindi, è la versione di accesso alla gamma CRIO SL, ma c'è anche una versione speciale. La versione speciale di cui vi parlavo è lei. È sempre una CRIO SL Expert, ma qui la vediamo con un vestito Gravel. Innanzitutto, abbiamo una grossa differenza che caratterizza questo modello, sono le gomme Pathfinder, pensate appunto per un utilizzo Gravel. Il reggisella telescopico X-Fusion da 50 mm di escursione che viene comandato da un comando che trovate qui sul manubrio. La bicicletta che vedete qui ha lo stesso telaio in fibra di carbonio Fact 11R sia della S-Works sia della Expert. Quindi, tutta la piattaforma CRIO SL, Ivo e non Ivo condivide il medesimo telaio. Il cambio, qui abbiamo di nuovo il Deoric St con attivazione elettromeccanica 11-42 e corona anteriore da 46 denti. Questa è la versione pensata per gli sterrati per andare fuori strada con maggiore disinvoltura. Grazie, ad esempio, al manubrio che prevede una leggera angolazione, un flare verso l'esterno per facilitare l'handling e la guida quando si va in discesa fuori strada. Di questa bicicletta qui vi ho raccontato nel link che trovate in alto a destra le prime sensazioni di utilizzo e questo è il modello che chiude per adesso la gamma Creo SL di Specialized. Vi invito a continuare a guardare i nostri video in chiave sia gravel sia strada e ad iscrivervi al nostro canale è gratuito e stiamo continuando a fare tantissimi video tantissimi test quindi alla prossima grazie 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 a tutti It's better for you